Top 11, diciassettesima giornata che incoronna l'Avellino e il Taranto come le realtà più belle dopo gli ultimi scoppiettanti 90 minuti di gioco. I tarantini sono tra le grandi dopo l'ennesima vittoria da Giacovone sul Monopoli. I lupi irpini di pazienza, dopo aver sbancato il vigorito, vanno a caccia di conferme. Nel prossimo turno i due tecnici saranno l'uno di fronte all'altro. Guida proprio e Zolino Copuano, la speciale formazione, che vede tra i pali l'estremo difensore degli irpini guidotti, tanto bistrattato, tanto sannato. Quando è giornata sfoda le prestazioni sempre da sette, a Benevento salva i verdi in più di una circostanza. Retroguardia con Tiago Cionec che ringia su Marotta in prota e ferrante. Antonini lui del Taranto, un po' come Bellic della Juve Stabia che segna sempre. E poi due giocatori di assoluto valore come Ceriento della Casertana che è stato in grado insieme ai suoi compagni del reparto di arginare l'attacco del Picerno, che fino al match contro i Falchetti segnava due gol a partita e per chiudere con Bizzotto e del Brindisi, tre migliori in campo nel colpo in casa del Sorrento. Giorgione non si tocca a centrocampo, terzo gol per lui nelle ultime quattro partite. Bertotto ha trovato in lui l'uomo della Provvidenza, Riccardi dell'Atina che sblocca la gara a Liguri, d'orale greco e i tifosi dei Pontini così come Mistri Donato confidano molto nel suo talento, chiude il reparto romano del Taranto. Attacco con le doppiette di Polidori e Malcone, gli attaccanti di Virtus Francavilla e Audace Cerignola, vanno a segno nel 3-3 del nuovo arredo e toccano entrambi quota 7 in classifica marcatori. E fanno compagnia a Chico Patierno e l'eroe del Vigorito, ora sta a lui far sognare i tifosi dell'Avellino. Dopo aver trovato il primo gol in trasferta, ora ci si aspetta dal puntero pugliese una seconda parte di stagione, importante.